Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner, abbiamo con me la mia immancabile, veramente ormai due pappagallini inseparabili, io e Clara, siamo sempre inizialmente per le interviste, e poi abbiamo con noi il grandissimo ospite Francesco Parico della Scala, che rappresenta l'associazione di amicizia tra Italia e Corea del Nord, e Francesco, dimmi qualcosa. Piacere mio di essere di nuovo qui e di questa opportunità di veicolare i nostri punti di vista tramite l'alta tribuna di Ottolina TV, e vi annuncio buone notizie. Bene, allora partiamo dalla notizia di attualità, e cioè stretta attualità ti chiedo, settimana passata è stata riportata la notizia di un lancio di un missile ipersonico da parte della Nord Corea, anche le autorità sudcoreane hanno riportato, riconosciuto insomma che effettivamente hanno riconosciuto la riuscita di questo lancio, se non sbaglio è stato lanciato a 600 km nel mar orientale, ecco la domanda che ti faccio è, innanzitutto se confermi questa notizia che stanno uscendo sulla stampa occidentale, e che cosa se ne dice in Corea del Nord? A te. Confermo assolutamente, l'esercitazione per il collaudo di questo nuovo missile è stata diretta da Kim Jong-un in persona, e si tratta del missile Wasong-16, che è una sintesi degli ultimi ritrovati della tecnologia militare non coreana, che erano stati sperimentati sui veicoli, sui razzi vettori a corto raggio negli anni passati, e che adesso sono stati estesi a un missile balistico a medio raggio, quindi in grado di colpire le basi militari americane nel Pacifico, i gruppi di portaerei e le altre forze schierate su quel teatro di eventuale conflitto. Questo missile Wasong-16, a differenza dei precedenti, presenta due grandi novità, innanzitutto è un missile a combustibile solido, in due stadi di propulsione. Il combustibile solido era già stato sperimentato per i vettori a corto raggio negli anni passati, adesso c'è una significativa estensione della gittata. Come mai è tanto importante questo aspetto? Perché un missile a combustibile solido può essere lanciato in molto meno tempo rispetto ad uno a combustibile liquido. Un missile a combustibile liquido deve essere caricato con questo combustibile prima del lancio, di conseguenza il nemico ha più tempo a disposizione per colpirlo sulla rampa prima che venga lanciato. Con i missile a combustibile solido questa eventualità si riduce significativamente. In secondo luogo il game changer della situazione è il veicolo di rientro planante ipersonico. Come funziona un missile di questo tipo? Mentre un missile balistico si leva molto in alto rispetto all'atmosfera e poi ridiscende verso il bersaglio, offrendo quindi molto tempo al nemico per captarlo con i suoi radar in quanto sorge al di sopra della linea dell'orizzonte, un missile con veicolo di rientro balistico appena superata la quota dell'atmosfera il veicolo planante si separa dagli stadi di propulsione e inizia a planare verso l'obiettivo tenendosi a un'altitudine molto bassa e quindi molto difficile da intercettare perché risulta visibile solo per breve tempo ai radar dell'avversario e inoltre un veicolo planante che di conseguenza può cambiare direzione e quindi evitare i missili intercettori che gli vengono lanciati contro. Tra l'altro questo veicolo planante ha registrato una velocità di Mach 14, 14 volte la velocità del suono e di conseguenza nello stadio finale della sua traiettoria è stato avvolto da un fascio di plasma che l'ha schermato dalle onde elettromagnetiche ha reso invisibile quest'ultima fase della sua traiettoria anche ai radar della Corea del Sud. Piano piano quindi la Corea del Nord con questa tecnologia si sta avvicinando al primato mondiale in materia che è il missile avant-garde russo introdotto nel 2019 che raggiunge una velocità dichiarata di 28 Mach, il doppio praticamente. I paesi come Cina, Russia e Corea del Nord sono l'avanguardia nello sviluppo tecnologico militare di questo tipo di armi mentre gli Stati Uniti sono rimasti indietro. Quindi comporta un significativo vantaggio del campo antiimperialista, così viene definito dai norcoreani contro i suoi avversari e tra l'altro queste armi sono armi asimmetriche, ovvero armi contro cui il nemico americano e sudcoreano non può difendersi perché l'obiettivo della strategia norcoreana non è naturalmente quello di essere più forti di una superpotenza come gli Stati Uniti con enormi quantità di armamenti, di risorse, di capitali, bensì quello di sviluppare alcune singole armi contro cui il nemico non può difendersi, che non può intercettare e quindi missili di questo tipo caricati con testate nucleari comporterebbero delle perdite immense al nemico e sono tali da esercitare un effetto di deterrenza contro le sue ambizioni belliciste. Tra l'altro, cito un aneddoto parzialmente collegato, secondo le memorie di alcuni funzionari dell'amministrazione Bush nel 2022 quando venne coniato lo slogan dell'asse del male, originariamente il primo obiettivo dell'invasione non doveva essere l'Iraq bensì la Corea del Nord. La Corea del Nord sperimentò le armi nucleari per la prima volta nel 2006, all'epoca quindi disponeva soltanto di forze convenzionali e tuttavia queste forze convenzionali, in particolare il suo gigantesco parco di artiglieria, nonché la quantità di missili Scud molto superiori a quelli che crearono molti problemi agli americani in Iraq, furono sufficienti a dissuadere gli imperialisti e da spingere a scegliersi un altro stato canaglia da attaccare. Con il senno di poi si resero conto di aver colpito il nemico sbagliato, ma all'epoca furono dissuasi già dalle forze convenzionali. A questo punto, in particolare dal 2017, con lo sviluppo di missili balistici intercontinentali a lunga gittata in grado di colpire l'entroterra americano, già la situazione è nettamente migliorata e adesso con lo sviluppo di tecnologie come i veicoli plananti personici e i missili a combustibile solido che in futuro queste tecnologie, tra l'altro, saranno estese a tutto l'arsenale missilistico, compresi i missili a lungo raggio, comportano una garanzia pressoché definitiva di sicurezza e di pace sulla penisola coreana. Clara? Sì, allora, ci sono state le elezioni in Corea del Sud e il partito filo-usa, filo-statunitense della maggioranza conservatrice è stato sbaragliato dal partito progressista che è stato definito anti-usa, immagino che non sia del tutto anti-usa, però viene riferito che ha delle posizioni diciamo più equilibrate, più di distanza dagli Stati Uniti e più equilibrate con la Cina, ma soprattutto è contro il disgelo con il Giappone che ha definito un'umiliazione per la Corea. La vittoria è stata schiacciante con una grossa affluenza, anche se è stata determinata più che altro dalle politiche interne disastrose della maggioranza, però è chiaro che noi ci aspettiamo da questa vittoria una postura internazionale diversa, soprattutto nei confronti di Corea del Nord, di Cina e quindi anche di Giappone. Cosa ci puoi dire al riguardo? Allora innanzitutto quando si parla della sinistra in Corea del Sud non dobbiamo pensare a dei comunisti, bensì a qualcosa di più simile alla nostra democrazia cristiana. Quindi un partito fondamentalmente questo di centro-sinistra che sostiene una politica estera più realistica nei confronti della Corea del Nord cercando di riavviare il processo di pace e riconciliazione in vista della denuclearizzazione della penisola coreana, tra parentesi quest'ultimo obiettivo ormai il Nord non lo persegue più perché ha visto quale fregatura vogliono rifilare gli americani con il modello libico, chiusa parentesi, e un atteggiamento meno ostile nei confronti della Russia, in particolare questo partito si oppone alle cospicue forniture di armi sudcoreane alle forze ucraine e naturalmente come dicevi tu la polemica contro l'apertura nei confronti del Giappone con cui entrambe le Coree hanno dei lunghissimi contenziosi risolti, in particolare il problema delle comfort women, cioè quelle donne sudcoreane che furono ridotte a schiave sessuali dei soldati giapponesi durante il periodo coloniale e che ancora oggi questa vicenda degli strassichi giudiziari, ecco ogni volta che ci si apre al Giappone in Corea del Sud c'è un'ondata di nazionalismo etnico su questa vicenda che in questo caso viene cavalcata dal centro-sinistra locale. Mentre negli altri paesi, qui in Europa siamo abituati a pensare alla destra come i partiti nazionalisti per eccellenza, invece in Corea del Sud la destra è composta fondamentalmente dai vendipatria, dalla borghesia compradora, da coloro che vogliono rafforzare l'alleanza con gli Stati Uniti, con il vecchio nemico giapponese e addirittura nel caso di Yunso Kiyol, l'attuale presidente conservatore, addirittura di spiegare altre armi nucleari americane sul territorio, sviluppare un proprio programma nucleare e altre iniziative di questo tipo. Ad ogni modo la politica estera è soltanto una piccola parte della storia di queste ultime elezioni in Corea del Sud, perché la maggior parte della perdita di consenso per il partito di Yunso Kiyol deriva, come dicevate, dalle sue politiche interne, in particolare dalla politica economica neoliberista, dai tentativi di tagliare le tasse ricche, in particolare le tasse sui dividendi degli azionisti e di rendere ulteriormente precario e flessibile, come si dice a casa nostra, il mercato del lavoro abolendo il limite di ore settimanali lavorative fissate da Mujain nel 2018, riportando quindi la situazione ai livelli degli anni 70 e degli anni 80, quando letteralmente a decidere la durata del giorno di lavoro non è lo Stato, non è la legge che tutela i diritti dei lavoratori, bensì il mercato, quindi potenzialmente gli imprenditori hanno un mezzo di pressione per costringere i lavoratori ad accettare turni estenuanti, ebbene questa situazione non ha riscosso il consenso della popolazione naturalmente, insieme all'aumento dei prezzi e dei beni di prima necessità negli ultimi mesi, considerando anche che il voto che aveva eletto Yunso Kiyol nel 2022 era stato fondamentalmente un voto di protesta legato non tanto alla situazione economica, infatti già all'epoca la sua natura neoliberista e quindi nefasta per gli interessi dei lavoratori era chiarissima, a muovere quel voto, in particolare nelle frange giovanili, era stata la situazione di guerra dei sessi che noi conosciamo bene, si sviluppa anche nei nostri paesi, ma in Corea del Sud era particolarmente accentuata, ebbene Yunso Kiyol aveva sfruttato populisticamente alcuni eccessi della sinistra locale, era stato eletto come presidente antifeminista, diciamo così, e a parte il fatto che sotto il capitalismo i problemi di genere non sono oggettivamente risolvibili, si può fare ben poco, l'onda di questo voto di protesta ha finito per esaurirsi, per infrangersi contro quella che è la realtà delle sue politiche economiche che hanno peggiorato la vita dei lavoratori in Corea del Sud, e adesso in seguito a queste elezioni, secondo i principali analisti, Yunso Kiyol, che quindi non dispone della maggioranza parlamentare, che è stato abbandonato da vari suoi collaboratori che hanno dato le dimissioni, si concentrerà sempre di più sulla politica estera, mentre all'interno, fortunatamente per le masse lavoratrici sudcoreane, avrà molte più difficoltà ad attuare le sue politiche economiche neoliberiste, quindi un sospiro di sollievo dopo gli scenari delineati in Squid Game, fortunatamente i sudcoreani ce l'avranno, almeno in parte, almeno nei limiti che consente la politica locale. Senti, Francesco, una domanda invece, per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, diciamo alcuni giornali hanno detto che le armi che la Corea del Nord sta fornendo alla Russia vengono, tra virgolette, usate in quel conflitto come una sorta di prova generale. Ecco, innanzitutto volevo sapere se secondo te questo è vero sì, cioè se secondo te è così, poi volevo sapere eventualmente se stanno dando di buona prova della loro funzionalità, della loro possibilità di uso. Allora su questa questione bisogna fare un distinguo perché i media norcoreani quando si parla dell'uso di proprie armi o eventualmente dell'ispiegamento di proprie truppe all'estero mantengono un silenzio di tomba, si tratta di attività segrete, di operazioni coperte da segreto di Stato che quindi non vengono apertamente divulgate, magari saranno a decenni di distanza quando saranno rivendicate come parte della storia nazionale, ma al momento per difendersi dalle accuse degli imperialisti e dai loro costanti tentativi di sanzioni e di criminalizzazione dello sviluppo militare del paese non vengono divulgate. Tuttavia c'è un politologo norcoreano residente negli Stati Uniti, Ano Sok, direttore di quello che si chiamava fino a poco tempo fa il Centro Studi sulla riunificazione, che adesso si chiama il Centro Studi di Affari Politici, riflettendo la mutata politica di Kim Jong-un sulla riunificazione nazionale, il quale ha rivelato alcuni dettagli di questa assistenza militare alla Russia, che è iniziata in particolare dopo la visita del ministro Shoigu a Pyongyang nell'estate del 2023, quando non ci furono naturalmente informazioni dettagliate da parte dei media ufficiali al riguardo, ma Kim Jong-un gli mostrò letteralmente le varie armi sviluppate dalla Corea del Nord negli ultimi anni e Shoigu nel suo discorso di benvenuto definì l'esercito norcoreano come l'esercito più forte del mondo, quindi insomma era chiaro dove si stava andando a parare. Ebbene, secondo Han-ho-Sok, la Corea del Nord non fornisce solamente armi alla Russia, ma gli ha fornito anche una decina di stabilimenti per la produzione di armi e munizioni prefabbricati, questi stabilimenti in particolare per la produzione di lanciarazzi multipli e artiglieria semovente. Riguardo alle armi norcoreane che hanno avuto le prestazioni migliori nel teatro di guerra ucraino, bisogna citare soprattutto il missile Wasong-11 che presenta delle prestazioni superiori rispetto all'Iskander russo e in particolare negli ultimi mesi ha dato prova di sé con l'attacco a Kiev e la distruzione della fabbrica di munizioni Artem che era camuffata tra gli edifici civili della città e ultimamente addirittura l'attacco nei dintori di Odessa quando lo stesso Zelensky che si incontrava in quella città con il leader greco Mizotakis fu allertato e dovette spostarsi tempestivamente perché era a portata di tiro. Le armi norcoreane quindi stanno dando buona prova di sé sul teatro di guerra russo e tra l'altro una delle cause possiamo dire del prolungamento di questo conflitto in Ucraina, cioè come mai il conflitto non si è concluso con una guerra lampo, con una vittoria di una delle due parti, si tratta di un vero e proprio stallo oppure c'è qualcos'altro sotto, ecco una delle ipotesi al riguardo è quella che a entrambe le parti convenga prolungare il conflitto perché da un lato si evita una vittoria decisiva da una parte, una sconfitta decisiva dall'altra che potrebbe condurre un escalation superiore per riscattare l'umiliazione dello sconfitto e dall'altro lato si tratta di un'esperienza utile per sperimentare i nuovi tipi di armi che da entrambe le parti erano state solamente collaudate a livello di prova e che adesso hanno finalmente un teatro di guerra effettivo in cui far valere le proprie capacità. Per la Corea del Nord questa è naturalmente un'occasione d'oro e nei prossimi anni continuerà a fornire armi alla Russia, tanto più che adesso le relazioni tra i due paesi sono più solide che mai e attesa quest'anno la visita di Putin a Pyongyang e nelle comunicazioni a partire dall'estate scorsa Kim Jong-un, Kim Yo-jong e gli altri dirigenti nordcoreani si riferiscono a Putin chiamandolo apertamente compagno. Immaginatevi, una cosa del genere non si vedeva dal compagno Putin. A proposito di compagno Putin abbiamo anche qui un altro compagno in arrivo con noi, il nostro leader Maximo, eccolo. Il grande timoniere. Esatto, il grande timoniere. E vabbè, sentite io farei la mia ultima domanda, dopodiché lascio a Giuliano, a Clara, insomma diventato una festa. Comunque io adesso vi faccio la mia ultima domanda, Francesco. E ci riguarda nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare molto dell'allargamento dell'AUCUS, cioè dell'accordo che nel 2021 avevano stretto Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Si era parlato di un coinvolgimento di Filippine, poi a un certo punto dell'Indonesia. Sembrava in realtà per lo più Giappone, perché poi l'accordo riguarda la guerra informatica e i sottomarini nucleari, quindi in realtà si parla poi di paesi anche che hanno una disponibilità economica per investirle risorse in questi settori. E quindi la domanda che ti faccio riguarda proprio se in Corea del Nord innanzitutto se si parla di questo presunto allargamento. Tra l'altro poi le autorità australiane hanno smentito l'allargamento, hanno detto che saranno delle partnership occasionali, però se se ne è parlato in Corea del Nord e eventualmente se questa viene percepita come una minaccia contro la Corea del Nord stessa o più che altro come una cosa rivolta alla Cina in questo caso. In Corea del Nord se ne parla come, in particolare presso gli istituti di studio sul teatro diplomatico dell'area dell'Asia Pacifico, presso il Ministero degli Affari Esteri che ha un suo sito e lì pubblicano molto sovente degli articoli su queste manovre degli Stati Uniti per creare sempre di più una sorta di NATO asiatica che attraverso accordi che al momento sono limitati come giustamente ricordi ad alcuni settori ma che mirano in prospettiva a consolidare la struttura del mondo diviso in due blocchi in una nuova guerra fredda, espressione che ormai è d'uso corrente in Corea del Nord a partire dalla fine del 2022 e queste manovre sono viste sì come una minaccia alla Cina e la Corea del Nord è allineata ai cinesi sulla questione di Taiwan, sulla questione di Hong Kong e nei suoi articoli ha sempre difeso la Cina su questi punti così come riguardo alle accuse sul Covid e sullo Xinjiang e d'altra parte è anche visto come un tentativo da parte di giapponesi, sudcoreani, americani di creare sempre di più un ombrello difensivo comune e quindi di minacciare la stessa Corea del Nord. Di conseguenza i nordcoreani si oppongono strenuamente a questi progetti però dal punto di vista machiavellico c'è anche un risvuoto positivo che è quello di consolidare l'asse avversario, di spingere sempre di più Cina e Russia ad avvicinarsi alla Corea del Nord formando un campo antimperialista di cui i nordcoreani si ritengono in un certo senso la guida nella misura in cui pur essendo un paese piccolo hanno comunque delle forze armate dotate di un elevato livello tecnologico comunque con poco da invidiare in termini qualitativi ai loro vicini e dall'altro lato è il paese con la struttura socialista più avanzata, più radicale rispetto alla Russia che è un paese capitalistico con comunque forti elementi progressivi rispetto alla Cina che come tutti sanno pratica il socialismo di mercato, lo stadio primario del socialismo come loro lo definiscono e tra l'altro con il consolidamento dell'alleanza fra Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti la Corea del Nord aveva fatto un breve tentativo di avvicinamento al Giappone in particolare per la bocca di Kimio Jong aveva offerto ai giapponesi la possibilità di normalizzare i loro rapporti con la Corea del Nord, i giapponesi reagirono a questi tentativi mettendo subito sul tavolo la questione dei rapimenti avvenuti durante gli anni 70 e 80, all'epoca la Corea del Nord venne accusata di aver rapito dei cittadini giapponesi, tra l'altro questa era a prassi comune tra Giappone e le due Coree in quegli anni c'era una battaglia dei vari servizi segreti che praticavano anche queste manovre, in Corea del Nord successivamente furono condannate, erano portate avanti da alcuni funzionari dei servizi i leader poi imposero un'interruzione di queste attività, ebbene il Giappone sostiene che la Corea del Nord abbia ancora dei suoi cittadini rapiti, i prigionieri sul proprio territorio, la Corea del Nord da parte sua nega queste accuse e la proposta giapponese di riavviare il dialogo con la condizione preliminare di risolvere questo problema, che invece la Corea del Nord sostiene sia già risolto, ha fatto naufragare questo tentativo e i nord italiani hanno anche fornito ai giapponesi delle risposte alquanto piccate, accusandoli di aver sfruttato le loro proposte di pace e riconciliazione per farsi autopubblicità nella politica interna, quindi questo canale fondamentalmente si è chiuso. Francesco, scusa se ti interrompo, questo qua poi va contestualizzato nella questione storica che in realtà poi lì c'è stata una guerra partigiana durissima in Corea del Nord, cioè la questione della resistenza antinipolica in Corea, in tutta la Corea, è stata una questione... ne abbiamo parlato poi nella precedente intervista che ti abbiamo fatto qui a Tuttolina, ricordo poi tra l'altro. Senti, Giuliano, vuoi aggiungere qualcosa tu? No, io non so se ne avete già parlato perché oggi sul foglio la mitica Giulia Pompili insomma ha scritto quest'articolo che appunto sottolineava il ruolo di arsenale dei regimi come lo chiama lei, per la Pompili i regimi su qualsiasi paese diciamo in qualche modo abbia uno stato abbastanza forte da non dover regalare tutto il paese alle oligarchie finanziarie americane e quindi diceva appunto Russia, Cina, Iran proteggano la Corea del Nord perché la loro polveriera antioccidentale parlava dei progetti di ampliamento della... dov'è che questa della Ryonsong Machine Complex nella città di Amung che è la seconda città nordcoreana dopo la capitale Pyongyang, volevo sapere un attimino se sapevi qualcosa dal punto di vista proprio degli investimenti concreti nella base industriale produttiva del comparto bellico nordcoreano in questa fase ovviamente di... Assolutamente, in Corea del Nord innanzitutto bisogna osservare che l'industria bellica contrariamente a quanto si potrebbe pensare non è confinata a livello dell'industria centrale quella pianificata direttamente dal centro con investimenti diretti del governo ma si ritrova anche in quella che viene chiamata l'industria locale, cioè l'industria autonoma delle singole regioni che si chiamano distretti, l'equivalente delle nostre regioni che quindi ricevono finanziamenti dal bilancio del distretto stesso e non direttamente dal centro e sono progettate queste industrie per funzionare anche in caso di guerra in una situazione in cui il singolo distretto venisse tagliato fuori dai legami con gli altri a causa magari dei bombardamenti aerei americani che impediscono la circolazione dei rifornimenti come era appunto accaduto durante la guerra di Corea e anche in un'eventualità come questa i singoli distretti hanno la possibilità di produrre armi autonomamente, di rifornirsi di armamenti e riguardo al sviluppo dell'industria locale una delle novità introdotte quest'anno da Kim Jong-un è la politica di sviluppo regionale 20 per 10, di che si tratta? Si tratta di un mastodontico programma di riindustrializzazione, di riammodernamento dell'industria locale in tutto il paese nell'arco di 10 anni, di qui il numero 10, ogni anno in 20 diverse distretti, in 20 diverse località si tratta di costruire industrie locali modello quindi pienamente automatizzate e in grado di rifornirsi con le materie più locali. Già Francesco quando parli di distretto che dimensioni hanno? Sono tipo le nostre regioni, tipo le nostre province? Sono l'equivalente delle nostre province, mentre le province non coreane sono l'equivalente delle nostre regioni, i distretti sono l'equivalente delle nostre province, ci sono circa 200 distretti in Corea del Nord e quindi se 20 all'anno vengono riabondernati, nell'arco di 10 anni si prevede di fornire una solida base all'industria locale di tutto il paese e si sono tenute nei mesi scorsi varie cerimonie di avvio dei lavori in questi distretti per i lavori del primo anno e tra l'altro non c'è solo questo, non c'è solo lo sviluppo dell'industria locale, prosegue anche, si è visto nei giorni scorsi una delle ultime notizie e a breve sarà inaugurato, il secondo comparto del quartiere Wazong di Pyongyang. A Pyongyang nel piano quinquennale in corso vengono costruite 10.000 nuove abitazioni ogni anno, poi di fatto se ne costruiscono ancora di più perché i piani vengono rivisti a rialzo e comunque questi 10.000 nuovi appartamenti che Kim Jong-un ha ispezionato qualche giorno fa saranno a breve inaugurati in corrispondenza probabilmente del 15 aprile al giorno del sole, quindi l'anniversario della nascita di Kim Il-sung, nel mentre sono già iniziati i lavori per il terzo stadio di questo quartiere e poche settimane fa è stata inaugurata anche l'azienda agricola di Kangdong che è un enorme complesso di serre situato nei pressi di Pyongyang per rifornire stabilmente di ortaggi la popolazione e si prevede di costruire un centro di questo tipo con praticamente più di 1.000 serre, se vi guardate le foto su internet è qualcosa di veramente impressionante, già solo per dimensioni, si prevede di costruirne uno in ogni provincia per non più risolvere il problema alimentare della carestia, questa è acqua passata, ormai si tratta adesso di migliorare, perfezionare e variegare la dieta dei cittadini. Inoltre, un altro progetto che è stato annunciato di recente, a metà maggio ci sarà invece l'inaugurazione della nuova scuola centrale per quadri del Partito del Lavoro di Corea, che è l'istituzione centrale per la formazione dei quadri dirigenti e il Paese è ben avviato su questa traiettoria, sono usciti giusto l'altro giorno i dati del primo quadrimestre di quest'anno, tutti gli indicatori del piano sono stati superati in alcuni settori, addirittura con un superamento del 20% rispetto agli obiettivi pianificati e quel che è più straordinario riguardo a questo sviluppo economico della Corea del Nord di cui vi accennavo nella scorsa intervista è che non sta avvenendo in seguito a un'apertura al mercato, in seguito a liberalizzazioni, a privatizzazioni che gli studiosi stili spacciavano come l'unica soluzione per conseguire la crescita economica, ma sta avvenendo in seguito all'ulteriore centralizzazione, al ripristino del sistema in vigore ai tempi di Kim Il Sung di forniture centralizzate delle materie prime all'industria di Stato, che quindi fuoriescono in termini marxisti dall'ambito della circolazione mercantile. Giuliano, voglio chiedere altro? Io poi ho degli altri domani, però sì, Clara, voleva, visto che Padova deve anche andare, se vuole, magari riusciamo a finire per tempo, però magari no. No, io non avevo... No, no, io ce l'ho un paio di cose che mi hanno salvato un po', era un po' di tempo che io volevo fare un pippone sulle relazioni Nord Corea, eccetera. No, una cosa, liberiamo Clara intanto, che tra una decina di minuti dovrebbe andare. O Clara vuole rimanere con noi? No, no, vado così voi vi prendete tutto il tempo che volete, va bene? Saluto tutti, sono Francesco, grazie per essere qui e soprattutto saluto tutti gli Ottoliner, ci vedremo presto, immagino. Instag, Millie Carlucci e Frizio Frizzi di Ottolina, proprio. Vi faccio bionda e riccia. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. No, allora Francesco, c'era questa su Nikkei Asia, l'altro quando era, no, già un paio di settimane abbondanti fa, c'era un articolo, insomma, molto ben fatto, dettagliato, interessante, che sottolineava come le sanzioni delle Nazioni Unite alla Corea del Nord abbiano un po' perso presa in qualche modo, no? Nel senso che non siano più così efficaci, c'era anche un grafico che ora qui davanti erano, riusciamo a farvelo vedere, al volo che appunto faceva vedere, insomma, commercio complessivo e anche commercio con la Cina, dal 2014 al 2020 hanno subito un graduale, ma inesorabile declino, fino quasi ad azzerarsi, insomma, poco più. Però invece dal 2020, diciamo, poi è stato l'anno del Covid, e nel 2021 si sono incominciate a riprendere, soprattutto il commercio con la Cina, ma anche in generale il commercio con la Cina, diciamo, è la stragrande maggioranza del commercio della Corea del Nord, anche prima di questo periodo, però anche, diciamo, le altre componenti hanno cominciato a riprendere. Perché è vero che non funzionano più così bene? Perché cosa ne possiamo dedurre? Innanzitutto si tratta di una conseguenza dell'evoluzione del rapporto di forze su scala internazionale, di questa situazione di nuova guerra fredda di cui parlavamo prima, in cui Cina e Russia, che pure fino al 2017 avevano sempre e comunque sottoscritto le sanzioni contro la Corea del Nord, pur applicandole soltanto sulla carta, salvo appunto nell'anno 2016-2017, quando ci furono frizioni con il governo cinese, anche la Cina strinse un po' le maglie in materia, ma questo è un conflitto superato. Oggi l'alleanza fra i due paesi è solidamente rinnovata. Il 2024 è stato dichiarato l'anno dell'amicizia fra i due paesi, è stato anche prodotto un emblema per simboleggiare appunto questa rinnovata alleanza e si attende la visita di Xi Jinping a Pyongyang. Dicevo, in seguito quindi alla frattura fra il blocco occidentale e questo campo antimperialista di Russia, Cina, Corea del Nord, a cui si aggiungono Iran, poi le forze palestinesi, Hezbollah, i vari paesi dei BRICS che piano piano si stanno avvicinando, ebbene in questa situazione la legittimità delle decisioni prese di comune accordo fino a poco tempo prima, quando il mondo sembrava ancora monoliticamente unito attorno al blocco occidentale, piano piano si sta inclinando. E recentemente, quando è avvenuta la votazione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per rinnovare il panel di esperti incaricati di monitorare l'effettiva implementazione delle sanzioni contro la Corea del Nord, che si era rinnovato automaticamente per una dozzina di anni fino ad oggi, ebbene all'ultimo voto ci sono stati 13 favorevoli, scusate 13 favorevoli, la Cina si è astenuta, la Russia è stata contraria a posto il veto, di conseguenza alla fine di questo mese il mandato degli esperti sarà esaurito e non sarà rinnovato, di conseguenza se le sanzioni restano ufficialmente in vigore, l'organismo incaricato di sorvegliare che vengano effettivamente applicate non esisterà più. Di conseguenza la struttura del blocco economico contro la Corea del Nord, che è stata costruita negli ultimi decenni dagli Stati Uniti e dalle loro forze vassalle, si sta piano piano inclinando e con l'allargamento e l'approfondimento dell'alleanza con Cina e Russia e la cooperazione militare con la Russia di cui abbiamo parlato prima, ormai queste sanzioni vengono sempre più ridotte a carta straccia e tra l'altro al momento attuale, mentre in passato la Corea del Nord naturalmente si opponeva a queste sanzioni, però d'altra parte ne traeva anche un po' vantaggio perché la premunivano contro quella che in loco viene definita la malattia delle importazioni, cioè la tendenza a dipendere dagli aiuti stranieri contro cui i vari leader si erano periodicamente scagliati, ebbene negli anni delle sanzioni e del loro massimo rafforzamento nel decennio scorso la Corea del Nord è tagliata fuori dal commercio internazionale, ha avuto modo di aumentare ancora di più il suo grado di autosufficienza, di sviluppare tecnologie autonome senza contare sulle forze straniere, adesso che rientra nel commercio mondiale, in seguito allo smantellamento graduale del regime di sanzioni, lo fa da una posizione incomparabilmente più forte rispetto al passato, quindi questa nuova apertura ai commerci non comporterà una riforma di tipo cinese, non comporterà la dipendenza della Corea del Nord e dal mercato mondiale, bensì le offrirà nuove opportunità di scambio con i suoi partner per rafforzare l'alleanza e adottare tecnologie sempre più avanzate attraverso la prassi, attraverso l'engineering. Chiarissimo, ma avevate parlato delle elezioni in Corea del Sud? Abbiamo parlato delle elezioni in Corea del Sud, abbiamo parlato dell'allargamento dell'AUKUS, abbiamo parlato dell'uso di armi nordcoreane in Ucraina, abbiamo fatto una bella panoramica. Allora io non ho altro da aggiungere. Ok, allora ringraziamo il nostro ospite Francesco, sempre gradito, ringraziamo ovviamente il padrone di casa Giuliano che ci permette di andare avanti con queste... Oggi il padrone di casa è di te che... Ringraziamo tutti quanti gli Ottoliner che ci hanno guardato, a cui ricordo di iscriversi al canale, anche a quello in lingua inglese, perché Ottolina TV è la TV del 99%, in realtà non è né mia, né di Giuliano, né di Francesco, né di Clara, è la vostra, quindi iscrivetevi, aiutateci, perché è grazie a voi che noi andiamo avanti, quindi il vostro supporto è importante anche sui social, Instagram, Telegram, andatevi, cercateci, iscrivetevi. Vi ricordo anche gli eventi di questo fine settimana, io sarò il pomeriggio all'Associazione Principe Enano di Iesi a dalle 17 e alle 11 sarò ad Ancona a Piazza della Medaglia d'Oro 9A. Invece a Nardò ci sarà un evento organizzato dai nostri amici, troverete tutti quanti i post in giro sui nostri social, che continueremo a mondarli. Vi ringrazio, ciao e alla prossima! Grazie a tutti, ciao ciao! Ciao a tutti e comprate il libro di Giulio Chinappi. Ah, è vero! Vai, dillo il titolo, scusami, vai, dillo, dillo, Francesco, scusami. Ricorda? Il nuovo libro di Giulio Chinappi pubblicato per Antioedizioni, tra l'altro, è ancora in corso di stampa, ve lo raccomando assolutamente, adesso ve lo spammo, vi mando anche lui. Beh, faccio una piccola parentesi, Giulio Chinappi con Clara lo vorremmo intervistare, quindi probabilmente lo rincontrerete, è un grande esperto di Vietnam, parla nove lingue, traduce dal vietnamita, dal cinese e quant'altro, quindi assolutamente consigliato come esperto di geopolitica e di politica asiatica. Vai, Francesco, col titolo! Kim Il Sung, la via coreana al socialismo, pubblicato da Antioedizioni, lo trovate sul sito della casa editrice e adesso vi mando il link. Perfetto, poi questo qui lo mettiamo in descrizione. Grazie mille a tutti, ciao e alla prossima! Grazie, ciao! Ciao! Ciao!